Ed eccoci qua al Festival 2021 di Sherwood e abbiamo con noi Furio Forieri degli Scaggi. Eccoci qua, salute a tutti. Ed è un onore intervistarlo ancora perché è passato varie volte sul nostro palco con la sua formazione gli scaggi o scagei come di solito si dice, scaggi perché giustamente a Venezia gli scaggi sono le ascelle, per chi non lo sapesse. Per chi invece avesse individuato sempre gli scagei come scagez c'è un altro doppio senso. Sì certo, quando siamo nati nel 2002 l'intenzione era quella di far ballare facendo ascoltare lo sca e il reggae coniugato alle melodie e le armonie della musica jazz. Infatti abbiamo fatto ballare con i pezzi di Mingus, di Duke Ellington eccetera eccetera ed era un nostro vanto riuscire a portare in giro negli spettacoli ovunque fossimo, nelle feste, nei centri sociali e riuscire a fare queste cose. Giulio, metti giù! E comunque adesso gli scaggi restano più che altro come sigla per individuare il gruppo che mi accompagna in quanto abbiamo fatto un po' delle inversioni di rotta rispetto alla nascita del progetto, nel senso che ormai non ci fossilizziamo soltanto su un solo genere ma suoniamo quello che ci piace e quello che ci viene più spontaneo. Giustamente da musicista quale tu sei insomma, perché bene o male ti sei sempre identificato non solo come produttore, sei diventato produttore, hai fatto vari singoli, cantante, musicista, insomma sei un artista un po' a tutto tondo. Io come produttore più che altro le uniche produzioni che ho fatte a livello di produttore artistico le ho fatte con i pittura fresca alla fine della bella leggenda di pittura. Adesso diciamo siamo più un produttore esecutivo, cioè quello che pianifica, cerca i musicisti, cerca lo studio, decide chi chiamare per i missaggi eccetera eccetera per cui adesso come produttore sono più un produttore autistico che artistico e comunque sì, io ho avuto sempre il piacere di suonare con musicisti più bravi di me fin dai tempi dei Sosa Bumba negli anni Ottanta, poi con le pitture eccetera eccetera. Ho in piedi diversi progetti, alcuni sono molto produttivi come appunto a Fuglia e gli Scaggi, altri sono diciamo più invernali, ho un trio in cui suono jazz, non canto e faccio dei brani dagli anni Trenta fino ai brani più recenti scritti dai giovani musicisti con cui ho suonato come Frank Martino, Filippo Vignato, Federico Nalesso, Antonio Gallucci e anche qualche brano mio in trio, ci chiamiamo Congiuntivi Defunti perché volevo dare un nome al trio e non sapevo poi ho sentito intervistare i liceali di Roma alla radio e ho detto senti come chi coppa i congiuntivi questi qua e l'ho detto era Congiuntivi Defunti, è una cosa che fa un po' da ridere. Adesso dovrei chiamare Furio e i suoi carichi pendenti ma lasciamo perdere, non ne voglio parlare. Allora il personaggio Furio Foriere è sempre stata la sua forza, l'ironia e la sua voglia di fare perché non hai smesso anche nei periodi più difficili dopo Pittura Fresca di continuare con il percorso artistico. Quanto manca quel periodo e cos'è successo dopo? Intendi Pittura Fresca? Sì. Beh è un periodo irripetibile perché siamo stati un po' la punti diamante del regga italiano per una serie di coincidenze, non per un fatto di bravura. Avere un cantante che scriveva dei bei testi come Scardi e io ho fatto del mio scrivendo altri testi. Il momento che l'underground italiana cercava delle novità e noi eravamo pronti in quel momento per presentarci. È ripetibile anche perché non esiste più quel tipo di promozione che esisteva una volta e di produzione dal punto di vista dei live che esistevano una volta. È ripetibile anche perché se adesso nascesse un gruppo come Pittura Fresca, io lo dico sempre, non avrebbe nessun successo. Un gruppo che canta in dialetto questioni molto legate alla propria città, penso che adesso come adesso non avrebbe più di tanto successo. Mi manca quella professionalità che c'era allora. Noi eravamo ragazzotti intorno ai trent'anni e forse non ce ne rendavamo conto ma adesso me ne rendo conto perfettamente perché dico i cachet non guardiamo neanche i cachet dal punto di vista dei soldi. Lasciamo perdere, stendiamo un velo su questa cosa ma il fatto di trovare un palco ben strutturato con dei fonici sempre capaci comincia a diventare sempre più raro. I locali che ti vengono a chiamare, che ti chiamano, oltre a ritornare ai discorsi dei soldi, non prevedono che tu abbia per esempio un camerino, devi cambiarti in macchina o non prevedono che per te ci sia una cena. Ti faccio un panino, ti faccio un panino, hai detto no non mi fai un panino perché io oggi suono, domani suono, dopo domani suono e la settimana prossima altri tre concerti, se incomincia a mangiare panini tutte le sere no, fammi una cortesia, insomma tutta quella parte che rende il lavoro più semplice e agevole, nel momento che tu monti in palco sei sereno, sei tranquillo, non hai fatto discussione per avere una bottiglietta d'acqua, capito? Allora era così, entravamo nei camerini, avevamo un bel catering pronto, con tutto, per carità eravamo in serie B o quasi in serie A in certi momenti, però c'era tutto, potevi stare tranquillo, avevi dei bei camerini grandi, noi eravamo in sette, otto, dieci a suonare, adesso queste cose non le trovi più. C'era tutta quella che era una normalità diciamo. Adesso qua lo Sherville che abbiamo già al camerino col frigo non è normale, è diciamo quello meglio, il meglio che puoi trovare, non il top, ma il meglio sicuramente. E d'altronde noi siamo la migliore alternativa. Sì, non metti in dubbio, ma comunque sì. Però insomma cerchiamo di curarceli insomma gli artisti giustamente con molto rispetto perché i musicisti vanno trattati con il rispetto dovuto. E volevo chiederti un'altra cosa, poi ti libero se vuoi. Quanto ha pesato quest'anno, come l'hai vissuto quest'anno di pandemia, quest'anno di stare fermi, magari? È stato creativo per te? No, io non ho... è l'unica cosa negativa per me rispetto alla pandemia e la malattia pandemica. È stato proprio che mi ha tolto la voglia di scrivere brani, di scrivere delle musiche. Ero un po' così... non ho scioccato, però un po' spiazzato, non avevo quel contatto perché io mi si accusa di essere un po' troppo autoreferenziale, scrivere sempre i testi rispetto alla mia vita, quello che mi succede o quello che vedo. E non succedeva niente, non vedevo niente, non avevo... non avevi contatti con la gente. Io quando scrivi delle canzoni mi vengono perché sono appoggiato al banco del bar, sento due che dicono delle cose divertenti o stupide che comunque avrebbero la dignità di entrare dentro su un brano. E queste cose non sono accadute. Ho avuto molte proposte che mi sono arrivate, naturalmente tutte dal Veneto, di fare dei brani. Uno era un brano klezmer di un gruppo di Treviso, un altro gruppo mi ha domandato di fare dei testi per delle musiche di flamenco di Vicenza. E a un certo punto ho dovuto dirgli ragazzi, non mi viene niente, non ho niente da raccontare. Le vostre musiche sono belle, anche i discorsi che fate sono belli, ma se è una cosa sforzata io non scrivo cose che non ho vissuto. E a volte mi si accusa anche di questo, di essere autoreferenziale, ma io sono fatto così, scrivo così. Non è che mi invento che mi sono innamorato di enamora, se non mi sono mai innamorato di enamora. Posso farlo così per scherzo, ma si capisce insomma che è uno scherzo. Come nei brani furiologi che parlo di questa ragazzina che viene a cercarmi. Alle volte accade, per carità, accade ancora adesso, però ho tre volte agli anni tuoi, lasciami in pace. Ormai ne faccio 59 a ottobre, per cui insomma quando mi arriva uno a vent'anni e dico ora ho tre volte agli anni tuoi, abbi rispetto. Però la musica mantiene giovani. Quanto la musica mantiene giovani? Ma se tu ti metti sempre in gioco ti mantiene giovane. Cioè io non ho mai fatto seriamente, mi ero mai messo in testa di fare un trio jazz. E ho detto no, perché posso farlo, sono in grado di farlo. Ho bisogno di un po' di prove, ho bisogno di musicisti che abbiano voglia di farlo. E ho trovato due musicisti che hanno voglia di farlo e mi sono messo in gioco. E quello mi costringe a stare in soffitta un'ora, un'ora e mezza la mattina, due ore, due ore e mezza pomeriggio, a studiare, studiare ancora e studiare sempre. Se vuoi continuare. Altrimenti prendo, vado nel negozio di strumenti musicali di Edoardo e metto i miei Selmer in vendita e tiro indietro la gamba e basta. Finisco. tanto dopo, se me li vendo tutti, vinti miei euro, tiro su e vivo lo stesso in altri tre anni, perché tanti, io spendo 300 euro al mese, sono parco nelle spese, mangio poco, bevo un po', ecco, quello sì. A Venezia e nel Veneto, insomma, la bibita resta... Il carattere veneziano comunque si sente. Sì, sì, per carità. Allora, noi ringraziamo qui dal festival di Sherwood Radio. E io ringrazio Mr. Robinson. Questa volta mi ha trattato anche bene, per cui... Sì, di solito lo prendo per il culo tanto. Ringrazio tantissimo Furio e aspettiamo il concerto di questa sera che sicuramente ci stupirà, come sempre. Sì, in diretta sulle frequenze di Sherwood. Di Sherwood. Grazie mille. Arrivederci. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.